Il Vice Ministro alle Infrastrutture Riccardo Nencini parla degli investimenti in Calabria. L'alta velocità non esiste nell'intesa tra Ministero, RFI e Regione, ma la Calabria è interessata a lavori per 450 milioni. Le prospettive che interessano all'infrastruttura sono state al centro quindi della risposta che il Vice Ministro alle Infrastrutture Nencini ha dato ad una interrogazione presentata dal Deputato Giuseppe Galati, che aveva chiesto chiarimenti rispetto ai timori di isolamento del territorio che un lento abbandono della rete avrebbe comportato. Quella di un'Italia a due velocità era la preoccupante prospettiva avanzata da Galati, che al Ministero aveva chiesto quali fossero gli interventi in cantiere per potenziare il sistema ferroviario. L'interrogazione risale a un periodo precedente all'avvio dei primi lavori di ammodernamento della ferrovia ionica, ma la risposta dell'infrastruttura è invece arrivata pochi giorni fa, consentendo di tracciare una prospettiva aggiornata di quello che sarà il futuro della strada ferrata in Calabria. Nencini evidenzia che gli indici di densità di rete sono piuttosto elevati e anche l'accessibilità globale e tra le più alte d'Italia.